il mercoledì e giuri apre per De Vico non in maniera perfettissima ma l'azione continua proprio l'Eberlec una sbarata da Natali insiste però l'ex giocatore dell'Orlandina che va nell'angolo per l'Andi splendido Davide Brutti è definibile come ex ed è un ex importante ne paro l'Eberlec e poi Palla a Landi che va da Scott, benissimo, solidazione spalle a canestro ora, doppio accennato da Forlì, Alivegovic ancora coinvolto, va in allontanamento, prendeci un tiro, un momento rimonta piuttosto bene, De Vico si protegge, Forlinese con Palumbo che però torna indietro, ma Oboe gli è la grassa, e va anche a metter, Oboe, palla schiacciata a terra per Scott, che la perde, la recupera, passo d'incrocio, Scott, azione da bene ma non benissimo, comunque la prima azione, il primo tiro, Edito, che si fa largo e va a prendersi questo tiro, si fa vedere De Vico, Alivegovic va da sei in un primo momento, per poi andare da De Vico, che lascia lì una palla bellissima, il servizio arriva per Oboe a effettuare un giocatore di Forlì, continua l'azione, l'handi libero, gioco in albera dell'agnello, per usare 25 giri di parole, e poi l'handi la tripla dalla Lucani! Circa una decina in totale, nel primo tempo, esce la tripla di Davis, che l'avrebbe forse sbloccato, tentativo numero due, Davis, però non accusa ulteriori problemi, deve essere semplicemente scivolato De Vico, da molto distante! Spalla a canestro Alivegovic, Oboe a dargli una mano con l'impostazione dell'azione, sempre Oboe, trova Scott, il long two di Damon Scott, che va dall'altra parte con Alivegovic, Alivegovic chiude il palleggio, il suo perno, Toscano gliela rimette in mano, Alivegovic se ne va con lo spin, trova De Vico! C'è la Reale Montuari, che adesso imposta, con l'ultimo possesso del terzo periodo, Alivegovic contro Bolpin, Alivegovic va a prendere la tripla! Davis ci crede, si inalbera dell'agnello! La sfera, bella palla di Toscano per Alivegovic, Alivegovic ha un po' di vantaggio, lo esplora, chiude il palleggio, va da Scott contro Pulazzi, Scott appoggiandosi al tabello! Ancora Alivegovic, se la gioca in uno contro uno, poi va dentro, scarico per De Vico dall'angolo! Da gestire difensivamente! Davis, blocco di Scott, che libera lo spazio per la tripla di Davis! Si gioca, Landi, nell'angolo per De Vico, liberissimo! di fare quello che sa fare! Contro Natali che tiene, allora si ricomincia tutto da Alivegovic, palla nel taschino per Scott, e palla nel taschino col più piccolo! Alivegovic, scarico per Landi, la tripla! Con la partita più che indirizzata, e De Vico che se ne vada l'avversario! Davis, lasciato solissimo! e Grazie a tutti.